È come un masso nell'acqua. E cosa fa l'acqua? Se voi spostate il masso indietro, la forza si viene indietro. Se voi scendete troppo, il sasso non ha rimbalzo. Io devo far rimbalzare il sasso e quello che cercate è anche spinta. Nella spinta io sconnetto il corpo, perché attivo la massa muscolare. È strano, ma quando io attivo la muscolatura, io mi sconnetto. Ogni volta che io attivo un braccio, il braccio si sconnette dal corpo. Anche nelle tecniche standard, io devo essere rilassato e il mio centro lancia. Se io attivo il braccio, sconnetto il braccio. Quindi il mio centro è reattivo e il mio corpo è rilassato. Allora trasmetto massa. Il mio centro trasmette massa sull'altro. Il mio braccio si disattiva sul contatto. Quindi se io sono a distanza corta, devo far sentire la mia massa a lui. Non gli arriva niente perché sono teso. Quindi ho staccato il braccio. Non gli arriva niente perché ho mandato la forza più giù che l'ha. Io devo farlo. Basta. Molto poco. Vedete? Quindi il nulla. Come lavarsi le mani, ma rilassato. Ok? Quando io sono a corta distanza, questo è più efficiente di... Non cercare di colpire le braccia. Questo è il palestra. Se mi rilasso, passo di loro. Ok? Dai.